Ciao tesoro, come mai sei a casa oggi da scuola? Perché oggi avevi il naso tappatissimo Stamattina avevi il naso tappatissimo, continuavi a piangere e non riuscivamo a scapparlo Sai che potrebbe essere una conseguenza del vaccino? Perché qualche giorno fa hai fatto il vaccino e magari in questi giorni non stai tanto bene E potrebbero anche uscirti delle bolle sul corpo perché hai fatto il vaccino contro la varicella E quindi ti potrebbero uscire anche delle bolle Io sto provando i trucchi a me, solo che qua ti ho scorto quello di scuola Adesso ti aiuto io, questo è uno dei regali che ha ricevuto ieri Vanessa da papà Sì, quello là che mi voleva regalare il mio compagno, però adesso ve lo regalavano perché se andate ne avevo due Esatto, volevo prendertelo io per il tuo compagno e papà mi ha anticipato a convane Vabbè, tanto ci stai giocando tu alla fine Sì, però lo prendi per il mio compagno un altro Va bene, ascolta Nastasia, io però stamattina ho delle commissioni da fare Sì, è bellissimo Sì, è bellissimo È veramente, veramente bello Guardate, qui quello per le mani Guarda quanti pennelli Sì, qua ci sono i rossetti Poi qua ci sono le unghie Qua per le unghie c'è anche il separadita Guardate i rossetti Quello per gli occhi Bellissimo, veramente bello Dicevo Guardate cosa c'è Cosa c'è? I pennelli, amore, pieno di pennelli Le ciglia Ascolta, mi stavo dicendo che io comunque devo uscire stamattina e ti spiego una cosa Ragazzi, è tutto azzurro questi, questi, è tutto azzurro Domenica Pranzo Vediamo se sei contenta È tantissimo che non lo vediamo I miei amici No, i tuoi amici saranno il tuo compagno Antonio e Raffaele Lo sai? Sei contenta? Sei contenta di vedere Raffaele? Me l'hai chiesto l'altro giorno Sì Adesso sei troppo concentrata ad aprire i trucchi Va bene Ascoltami E qui possiamo giocare un po' la roba Eh, infatti E poi dobbiamo andare in cartoleria Ah, quindi dobbiamo andare al toys Perché dobbiamo acquistare delle cose per allestire la stanza giù per il compleanno di Vanessa Perché? Perché gli mettiamo i palloncini Ah sì? Lo vogliamo fare dopo Perché poi non lo andiamo a prendere allora Sì, no, lo facciamo prima di sabato di nascosto Ok? E poi un'altra cosa Dobbiamo andare in cartoleria A rivestire il tuo diario A plastificare la copertina del tuo diario E la copertina bianca E poi comprare la copertina bianca Adesso la faccio a foglio Adesso, amore, io finisco di fare un piccolo lavoretto Tu ti sei cambiata Bravissima Così poi andiamo anche in farmacia a comprare qualcosa Per fare l'aerosol Come si toglie? Questo e questo Come si toglie? Adesso ti aiuto Ma secondo me non si toglie Ah sì, c'è sulla plastica Ma non puoi estrarre il cassettino Adesso ti do una mano Ma no, se il gatto è già fatto E qua il gatto Mi ha volato, infatti Vai, amore, vediamo se hai capito Mamma, mi riprende così poi sono tanti Ma ci sono? Quante spalasse che ci sono? Quante plastiche? Sì, guarda, non ho finito Ah, guarda, questo qui Ah, è da sotto Bene, vuol dire che è stato sigillato molto bene Andiamo dai, ti sta chiudendo la cartoleria Io non ti posso comprare le tue cosine Metti giù il telefono che è di Vanessa Mettilo giù Non ti serve il telefono Allora, amore, dove stiamo andando? A plastificare il tuo diario Così evitiamo di fare le pieghette Va bene? Mettiamo una copertina È quello nuovo È quello nuovo L'un 12 ottobre E allora? E allora poi lo mettiamo Tanto adesso lo dobbiamo dare alla cartolaia Va bene? Dai, andiamo a foderare questo diario Che già in macchina gli hai fatto la pieghetta Ed è nuovo L'ho fatto Un pochino, qua in alto Spesa fatta Abbiamo comprato quello che ti serve E come al solito Anche qualcosina in più Il diario è stato classificato Quindi adesso diciamo che Dovresti riuscire a portarlo fino a fine anno E ti ho ricomprato l'evidenziatore Allora, ricordati che a casa dobbiamo A casa dobbiamo etichettare tutto Colla Esatto E poi questo L'evidenziatore E il quaderno E la copertina Bianca Ok Giusto? Andiamo al toys Anni, perché è tardissimo Amore, siamo arrivati al toys Dobbiamo fare molto Ma molto In fretta Perché dobbiamo andare A prendere Daniel E quindi non abbiamo molto tempo Perché esce da scuola Ok? Sì Ascoltami Allora Eh sì amore È Halloween Veramente già Halloween Tra pochi giorni Quanti giorni mancano? Eh oggi è il 12 19 giorni 19? Eh sì Ma noi siamo a Roma Probabilmente No Non ci voglio andare Perché Non è la scuola Sì Ha detto che quando andiamo a scuola Prepariamo tutto La classe di Halloween Hai ragione amore E poi prepariamo Dei fogli Con le scritte Che c'è La zucca di Halloween E la mettiamo fuori dalla casa Perché è verde E la vediamo fa Va bene Amore guarda che bello Che bell'allestimento Non tocca Ok dai andiamo a vedere Per la vanessina Aiuto Cosa c'è Vuoi vedere Mamma mia che brutta faccia C'è la mia tela Sì amore Poi veniamo per Halloween Adesso dobbiamo fare in fretta Dai Io non tocca la mia tela C'è Sì c'è un cadavere là sopra Deve essersi comportato Molto ma molto male Quindi andiamo Dai Allora mi devi aiutare Anastasia Dobbiamo trovare le unghie finte Dai Cerca le unghie finte Per favore Ma non lo so cos'è Cerca le unghie finte Dai Le già trovate Ah ma sei bravissima Per vanessina Quale prendiamo Secondo te Anche le voglio Va bene dai Te le regalo anche a te Tu quale vuoi Io voglio Per me queste Eh Te Io voglio prendere queste Queste Sì Ma secondo me vanno bene Sia per te che per vanessa Fammi vedere Quante ce n'è dentro Allora fammi vedere Ce n'è Due Quattro Sei Qua ce ne sono cinque Ma le prendiamo l'altro No Queste vanno bene Guarda Ce n'è una fila Così Una fila così Quindi le prendiamo Sia per te che per vanne Però O ne prendiamo un altro Dai prendiamone un altro Le prendiamo azzurre Sono bellissime Secondo me la vanne piacciono Anche queste sono belle Color carne Belle Quelle vuoi Queste sono belle A me piacciono queste Io prendo queste a vanne Io queste Quale Quelle rosa Tutte rosa Ok Uh come sei indecisa Figlio la mia Prendere tutte Sei sicura Eh sì Le prendiamo tutte Dai Qua ci sono delle cose Che io adoro Comprerei Tutto Ma Ani dove sei Ani dove sei Ani 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 Guarda che belli Questi elastici Per capelli Mamma mia Quasi quasi me lo compro io E' bellissimo Anche questo Puccioso Oddio che bello Ma guarda Morbidissimo Magari ci sono delle cose belle Ani Ascoltami Ma magari ci sono delle cose belle Sì ma Dobbiamo prendere l'allestimento Per casa Vieni con me Guarda ho visto una candela bellissima Guarda che bella Guarda mamma Sì ma gliele ha regalati Sì ma gliele ha presi ieri Giorgio E vabbè fa niente Ah questo è per il compleanno Happy birthday È tutto luminoso A led Ma che figata È solo che è al buio Bellissimi Anche i palloncini Dai ne compriamo qualcuno Sì Eh Balloncini perfetti per la festa Ma che belli Comunque mi piace questo qua Ma per il mio compagno Mi ricompri C'è solo Ma per il mio compagno Mi ricompri Sì Ricordati Ma questo è un 6 Ah il 9 è giallo Benissimo Il 9 è giallo Scusa Ah no No non è vero Stavo dicendo una stupidaggine Mi sono confusa Quindi il 9 è blu Però mi piace Io glielo prendo Bello gigante Bellissimo Prendiamolo sparacoriandoli Così quando scende per la torta Glielo spariamo addosso Va bene? Sì così quando arriviamo ad essa Eh Quando arriviamo a casa Pum Io sono dietro a scale E lo faccio Ok? Va bene Va bene Poi cos'altro c'è di bello Vediamo Tu dici che Io sono andata in maniera Questo è un bel Questo è un cipre Sì pre No sono ciuppa ciuppa Che fischiano Ah sì A fischietto Te li ricordi? Allo scorso Ne abbiamo comprati Esatto Guarda mamma Le ho mette Eccoli Che bello Sì adesso Ne abbiamo comprati Bello questo 75 cm Ma va che belli Io li prendo anche questi C'è scritto happy birthday Eh Il butto Alla fragola Ah sì Fragola Aranza Tutti esotici il primo E poi fragola ancora Sì e menta Andiamo a pagare Ani dai Ma non so se ti piacciono Adanian li beveva Quando era piccolino A te non so se ti piacciono Andiamo a pagare Va bene Ok ragazzi Siamo tornate a casa Io e Anastasia E guardatela un po' Dov'è? Non sta bene Amore mio Sta facendo l'aerosol Perché non respirava più Come stai? Insomma Mica tanto Hai dormito fino adesso Ti sei svegliata nervosa E adesso mi hai chiesto Il pane tostato Con la nutella Vero? Fai bene l'aerosol Ok? Che tra poco Andiamo a prendere l'avane Non lo vuoi? Due Ah ok Ciao ragazzi Io sono uscita da scuola E siamo andati A portare il gatto A fare il vaccino E adesso andiamo a casa E vi diciamo come sta Ani Ani Come sta il gatto? Ciao Gasper Stai bene Fallo giocare Vediamo un po' I salti che fa Gasper Guardate Attentamente Dai Portalo su Guardate eh Guardate Gasper Su Su Ani Su Più in alto Eccolo Fa dei saltoni grandi Vabbè Ani Ascoltami Chiudiamo il video qua Io e te Perché Vanessa Non sai che Non deve sapere Che abbiamo comprato Le cosine Per la sua festa di sabato Vieni un attimo Ragazzi Iscrivetevi Nel canale Attivate la campanella Mi ha rubato il pesciolino Nooo Mi ha rubato il pesciolino Mi ha rubato il pesciolino Mi ha rubato il pesciolino Mi raccomando Non dite niente Manessa E non scrivetelo su Instagram Se no Lei guarda Poi capisce Allora Ragazzi Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E per favore Ascoltate un po' di cerno Al pesciolino Che me la roba Lui Ciao amore Buonanotte Perché sta per arrivare Vanessa Ciao Ciao Ciao